Dopo la manifestazione di due giorni fa sotto a Palazzo di Città in Corso Maruccino e l'incontro con il sindaco Diego Ferrara, questa mattina alcuni cittadini di Chieti hanno effettuato un sitin a Pescara nei pressi della sede dell'ACA per manifestare il malcontento per i disagi subiti per la carenza idrica in città e hanno illustrato anche un documento con delle proposte da presentare ai vertici del consorzio acquedottistico. Presente anche il vice sindaco di Chieti Paolo De Cesare che fa riferimento alle liste civiche Chiama Chieti e Chietice. Il tempo è finito, adesso ci vogliono risposte, io sono qui insieme ai due gruppi a tutto il movimento civico Chiama Chieti e Chietice, il Polo Civico Teatino per manifestare il dissenso in merito alla gestione delle risorse idriche nella città di Chieti che le reti siano vetuste, che ci sia dispersione, che ci siano problemi oggettivi questo lo si sa e lo si sa da tempo, vogliamo sapere cosa si è fatto per evitare che questa situazione si protragga negli anni, quest'anno, quest'estate si sono vissuti in città dei disagi clamorosi da parte delle attività commerciali e da parte dei cittadini, adesso è arrivato il momento delle risposte, non siamo più disposti a tollerare interlocuzioni che siano poi poco concrete, noi vogliamo risposte concrete. Noi abbiamo delle soluzioni che vogliamo sottoporre, che poi sono delle soluzioni di fatto anche semplici e facilmente individuabili, l'importante è che ci sia un'interlocuzione e ci sia concretezza nell'affrontare il problema perché non mi risulta che grossi investimenti in questi anni siano stati effettuati da parte del gestore e né che ci sia a breve termine un piano di investimenti a favore della città di Chieti, il che significerebbe che tra qualche mese saremmo punti a capo, questo non è più possibile, siccome noi lo abbiamo detto al primo momento non abbiamo né padrini né padroni, non dobbiamo rispondere alla segreteria di partito e siamo liberi, siamo scesi per difendere i cittadini di Chieti e per ottenere concretezza da parte dell'azienda, dell'ente gestore, dell'azienda, della società che gestisce il servizio idrico a Chieti. Se questo non avverrà noi difenderemo in tutte le sedi e con tutti gli strumenti la cittadinanza.